Ciao e bentornati sul canale! E che fai? Un minci senza di me? Sì! No! Un mini Pandora di Barbie, dolci, preziosi, soffice, pandorino. Io l'ho andato a prendere altre cose da recensire. E ragazzi questa Barbie io ce l'ho veramente. Sì? Quale? Sì, questa qua. Cioè io appena ho visto questa, questo pandorino ho detto, quella Barbie io ce l'ho. È stata la prima frase che... Questo pandorino sarà mio. Esatto. Allora la cosa preoccupante è che nei pandorini praticamente mai abbiamo trovato qualcosa. di bebello. Esatto. Quindi vediamo che cosa troveremo in questo. L'abbiamo preso all'MD, visto che voi ce l'ho chiedete, l'abbiamo pagato tipo 3 euro e qualcosa, non ricordo con precisione. No, lo apro io. Non lo stai preso, lo stai squartando, povero padre. Ma hai fatto vedere tutta la scatola? Sì. E all'interno abbiamo... Avida. Avida. Allora il pandorino facciamo vedere, è un classico pandorino a che cosa? Cioccolato o normale? Normale, il pandoro è normale. No, ma a volte ripeto. Soffice pandorino, questo che va fuori fuoco, perché la busta è... Aspetta, devo mettere la mia mano per farlo andare a fuoco. Che succede? Ragazzi, posso dire che per 3 euro non li vale. Non li vale. Ai 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 ai. Pollice giù. Carini gli adesivi. Adesivi. E tu dici, va bene, dai, sono carini. Sono carini. Ce ne metteranno 5, 6, 2, 2, 2, 2, 2. Cioè ragazzi, va bene tutto, però almeno mettetene un po' di più se dovete metterli, dai. Sì, per essere adesivi. Cioè... Neanche i cartoncini ci sono. Niente, è proprio così. Che nada, guarda, questa è la bustina. Ci mangeremo il pandorino, cosa dobbiamo farci? Quindi direi che è molto veloce come recensione. Se tu stai già vedendo quelle dopo, sono tante quelle dopo. Quindi io vi ricordo intanto, rapidamente, veloce veloce veloce, andate a guardare i vecchi video se avete tempo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e come sempre... Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!